Buonasera, ben ritrovati ad una nuova edizione del Tg7 Basilicata. La polizia di Matera ha arrestato quattro uomini di nazionalità georgiana di 25, 32, 34 e 41 anni per lesioni personali gravi e tentato omicidio. I reati sarebbero stati commessi nel corso di una liti avvenuta il 19 febbraio con due ucraini che rimasero feriti, di cui uno in modo grave, per una ferita ad un polmone. Le indagini sono state condotte dagli agenti della squadra mobile di Matera e coordinate dalla locale procura. Per questa edizione è tutto, ci ritroviamo nelle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione e arrivederci.